oggi proviamo questa maschera bellissima dell'auto off guardate che design ha una visibilità incredibile è una marca italiana e per questo ne siamo molto fieri purtroppo oggi le condizioni meteo come potete vedere non sono ottimali abbiamo fatto sci alpinismo siamo senza casca perché ci siamo saliti con gli sci alpinismo e quindi ha nevicato ieri purtroppo non riusciamo a sfruttare al massimo le capacità di adattamento alla luce di questa maschera che è un chip apposta che fa cambiare diciamo la percezione visiva in base allo stato di luminosità domani è previsto sole quindi sicuramente torneremo e ve la faremo vedere meglio ma intanto guardate che bella che è come copre bene tutto l'arco visivo eccezionale veramente adesso lo apriamo anche in discesa a dopo l'effetto della lente come dicevo ora non c'è sole quindi non si riesce bene a capire il chip è qua si può vedere domani speriamo ci sia un bel sole e lo facciamo vedere meglio allo troppo